in medio oriente ci sono tensioni a wall street la borsa sale cosa fare ce lo dicono i protagonisti di house of trading però per quanto mi riguarda la strategia l'avete scelta voi o meglio voi avete scelta sottostante andiamo a vedere quelli che erano i titoli quest'oggi in proposta si chiedeva di fineco bank leonardo stellantis stm quello che voi avete selezionato con il 36 per cento dei voti è stato fineco bene non è mai accaduto penso da quando c'è house of trading anche la mia strategia è rialzista oggi abbiamo fatto un filotto unico su fineco perché perché guardando il grafico su base daily ovviamente più allargata sullo wiki perché erano dei valori non banali ma poi andando sul grafico daily la reazione di oggi mi è piaciuta in modo significativo e quindi sono da proporre una strategia rialzista dove non ai prezzi attuali ma a 10 e 85 con sostanzialmente sui pullback dei massimi di ieri con uno stop invece sotto i minimi di ieri quindi uno stop a 10 e 55 per quanto riguarda il target beh visto che è in ascolto per questo trade ho adottato quasi uno stile alla nicola para che ci ascolta uno a uno more or less in realtà non è propriamente uno a uno ma più o meno quello è l'imprinting e quindi long di fineco lo vedete una leva 3 17 con un ingresso 10 85 stop 10 e 55 target 11 43 stelle di convinzione ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale di mp paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17 30 ad house of trading la campanella è rispondita sulla pitta della tecnologia e rimani sempre aggiornato sulle operazioni questa cosa è una campanella con l'inforo sulle operazioni proposte di comunicazione Grazie a tutti